Nell'aula consigliare del Comune di Nocere Inferiore si è tenuto un importante incontro, ovvero il premio internazionale Giovanni Paolo II. Ora in successione ascolteremo il Presidente del Comitato Scientifico, poi ascolteremo la Sindaca di Battipaglia e il responsabile della protezione civile. Infatti in questa occasione sono stati attribuiti tre premi di notevole importanza, uno all'ingegnere Carmine Carbone, l'altro a Roberto Schiavone dell'Umanitas e l'altro ancora a Giuseppe Gentile della UDM di Salerno. Generale Francesco Lupo, la valenza di questo premio ce la vuole spiegare sinteticamente e perché della sua presenza? Questo premio è stato istituito nel 2005 dopo la morte del Papa Santo e siccome alcuni amici, ossia Espedito De Marino e altri amici, Espedito De Marino è il Presidente della GLAIA, l'associazione che gestisce il premio, insieme ad altri amici pensarono di istituire un premio per premiare le persone che si erano distinte nella loro vita per la sagralità della vita. Per quale motivo fu istituito questo premio? Perché il Papa si rivolgeva sempre agli artisti, agli attori, alle personalità politiche e quindi pensarono che tutti coloro che nella loro vita hanno tutelato la sagralità della vita con le loro azioni andavano premiati. Cecilia Francese, sindaco di Battivaglia e qui a Nocena Inferiore sarà premiato un nostro concittadino, l'ingegnere Carmine Carbone. Sì, per noi è un grande onore, ma per tutta la città sto qui in rappresentanza proprio della città di Battivaglia perché fa piacere che al nostro concittadino ma poi all'ingegnere Carmine Carbone e conosciamo tutti venga riconosciuto questo premio importante. Stavo prima con il sindaco Torquato Maglio che è venuto anche lui a salutare e quindi con orgoglio e dico a Carmine che già ha iniziato col Comune di Battivaglia se ti ricordi a capo della protezione civile che è qui oggi anche presente e la strada è stata sempre in salita. Gli auguro buon lavoro, di continuare e di poter anche noi usufruire dalla sua professionalità ma soprattutto siamo orgogliosi come Comune di Battivaglia. Oggi è una giornata importante, un riconoscimento che viene da lontano ma che coinfolge anche te. Sì, noi siamo onorati di essere qui presenti oggi a Nocera Inferiore per un riconoscimento dato ad uno dei volontari fondatori della protezione civile di Battivaglia l'ingegnere Carmine Carbone oltre un pensiero che è stato rivolto al coordinatore dottor Giovanni Di Maio volontari all'epoca insieme a altri tanti volontari che sono stati dei pionieri nella protezione civile dobbiamo dire perché la protezione civile di Battivaglia è nata nel 1982 l'anno prossimo ci sarà la ricorrenza dei 40 anni quindi noi siamo onorati di continuare il buon nome della protezione civile quotidianamente le attività è inutile starle qui a delencare siamo sempre presenti nelle emergenze soprattutto nella prevenzione, nell'assistenza ai cittadini negli ultimi anni in questa emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 però sempre la protezione civile H24 365 giorni all'anno di cui io mi onoro di coordinare però come è stato detto poc'anzi durante la cerimonia io coordino ma il merito e il risultato va a tutti i volontari che ugualmente dagli ultimi iscritti a chi sta da 39 anni contribuisce al buon risultato di squadra